Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guertz, bentornati insieme ad evosmart.it Oggi raga uno di quei momenti secondo me più belli del mese dove vi vado a consigliare alcuni smartphone da acquistare, prodotti eccetera eccetera, servizi e quant'altro ed è secondo me il video più importante perché a novembre c'è il Black Friday, quindi il famoso weekend nero dove ci sono sconti, sconti e sconti tra l'altro diciamoci la verità, ormai il Black Friday è stato praticamente quasi tutto novembre però ecco queste offerte che vi dirò oggi sono concentrate, vi dirò anche il periodo e soprattutto considerate che gli smartphone tutto quello che vi dico è già online e quindi io ragazzi non mi perderò un'ulteriore chiacchiere e vi racconto subito quali sono gli smartphone e non solo da acquistare in questo periodo, proprio adesso Ho qui tutti i miei appunti ragazzi qua sotto e vado molto veloce però in casa Honor subito sul sito ufficiale ma non solo hanno proposto delle chicche secondo me non da poco quindi molto molto interessanti Partiamo dai due telefoni che più mi sono piaciuti e che ho ancora qua con me, sto parlando di Honor Magic 4 Pro, eccolo qua il top di gamma assoluto di casa Honor nonché Honor 70 che ragazzi è uno smartphone che molti hanno comprato e molti sono trovati molto bene e che secondo me ancora ad oggi è uno dei migliori medio gamma che quest'anno si sono visti all'interno del mercato Allora, Honor Magic 4 Pro cala a 799€, quindi attenzione un top di gamma con tutto, la ricarica wireless da 100W, la ricarica da 100W con cavo, la fotocamera che ha questo smartphone, la periscopica, il display comunque l'interfaccia di Honor che secondo me è veramente veramente ben fatta, ecco tutte le chicche che ha portato questo smartphone in un top di gamma scende a 799€ Honor 70 invece cala, dipende un po' cosa volete, se è il 128 o 256GB, 499€ barra 549€ Io vi consiglio il 256, questo perché? Perché una volta che avete imparato a conoscere la fotocamera, il sensore di questo smartphone, ragazzi fare le foto e fare i video sarà un piacere per voi quindi più memoria a lungo andare vi servirà, credetemi Poi ci sono altre offerte secondo me interessanti, vado veloce, ve lo leggo C'è un Honor 50 che ancora ad oggi potrebbe essere una valida alternativa a 329 nella variante 628 però se posso darvi un consiglio ragazzi, Honor 70 ha un'altra marcia, ha veramente un'altra marcia Investite, fumate meno, bevete meno, uscite meno, investite questi 100 e qualcosa euro in più in un telefono secondo me che va il doppio in tutto Parliamoci chiaro, cioè non posso nascondere immediato un dito Per chi invece non può permettersi un telefono da 500€ vi consiglio l'Honor Magic 4 Lite 5G a 249, secondo me è un buon prezzo nonché l'Honor X7 a 179, abbiamo anche un GS3 che è l'orologio con cinturino in pelle a 189€ Anche questo è un gran prezzo, se poi in casa Honor cercate dei computer ragazzi, Magic Book 16 a 699 oppure Magic Book 14 a 499, altri due terminali computer in questo caso molto molto validi Adesso vi parlo del mio portafoglio, eccolo qua, il portafoglio del Guerz, targato EvoSmart, personalizzato Ragazzuoli 25, 26, 27 novembre Sul sito di Moero c'è il Black Friday Non vi dico nient'altro, l'anno scorso abbiamo spaccato l'impossibile su questo Black Friday Quest'anno voglio vedere proprio i ragazzi di Moero che sudano, che mi mandano a fare in culo perché non ne possono più dei vostri ordini ragazzi Mi raccomando, volete fare un regalo al vostro marito, alla vostra compagna, a vostra moglie, al vostro figlio Ragazzi, questi portafogli qua sono fantastici Li potete personalizzare come no, a scelta vostra Volete mettere la foto dei vostri compagni, la foto di classe, la foto della vostra squadra preferita Lo stemma della Fiorentina Potete fare tutto su questi portafogli E il 25, 26, 27 novembre sconte a manetta sul sito Vi lascio tutto ragazzi linkato qua sotto nella descrizione del video E poi come non menzionare NordVPN Lo so, ormai NordVPN si trova all'interno di tutti i canali YouTube di questa terra Però se si trova ovunque c'è un motivo Perché il servizio è veramente affidabile, completo E ragazzi, io stesso a New York mi è servito e l'ho sempre utilizzata Wi-Fi pubblici, perché a New York è la base Nonché, pensate bene, io dovevo comprare il biglietto del treno per ritorno Quindi fare un Milano, Firenze, freccia rossa Mi sono connesso con NordVPN in America Ho connesso il computer come se fosse in Italia I prezzi erano uguali e quindi ho potuto soffrire del prezzo regolare Invece se vi connettete a un cacchio di Wi-Fi pubblico in America Il prezzo schizza Grazie a NordVPN questo non è successo Avete il soddisfatto rimborsati 30 giorni Voi potete provare il servizio per 30 giorni Mi piace, non mi piace Hanno aggiornato le applicazioni Finalmente sono in italiano sia per Android sia per iPhone Quindi sotto quel profilo non c'è più problemi E per il Black Friday, attenzione Perché c'è lo sconto del 63% Vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video Adesso raga, parte una super carrellata di smartphone in offerta Ho qui tutto scritto perché non me li potete ricordare al volo E quindi ve li racconto insieme a me Allora, partiamo con un bel iPhone 14 Che è in offerta oggi su Amazon a 899 Apro e chiudo una parentesi Io vi lascio il link in descrizione Se non fosse a questo prezzo vuol dire che l'offerta è finita Vuol dire che siete arrivati troppo tardi Oppure che c'erano solamente uno o due pezzi E quindi chi prima arriva meglio alloggia Mi dispiace per voi Abbiamo un S22 Ultra Eccolo qua, l'S22 Ultra Il protagonista di una riprova che arriverà prossima settimana Allo smartphone che mi son portato a New York E ho fatto tutte le fotografie con questo telefono YUI 5, Android 13 Ragazzi, l'autonomia è devastante adesso È veramente devastante Non vi dico nient'altro In segno buono, chiaramente E in offerta Amazon oggi 899 Ragazzi, 899 l'S22 Ultra Il buon Xiaomi 12T presentato a Monaco di Baviera Scende a 499 euro nella versione 128 Poco X4 GT Attenzione allo smartphone da gaming preferito da me quest'anno Che scende anche esso nella variante 8256 Quindi variante top a 349 euro Non da poco Anche questo smartphone Perché dico non da poco quando sto parlando di un poco? Non va Sembra una battuta ma non è OnePlus 10T Non l'ho provato Vi dico la verità Molti di voi l'hanno provato Vi trovate bene Alcuni no Alcuni sì Io non ci ho capito niente OnePlus qui sembra sparita Comunque questo telefono scende a 579 Invece che 700 e qualcosa Io ve lo segnalo Ve lo consiglio? Come faccio a consigliarvelo? Non l'ho provato Quindi ve lo metto in lista Perché comunque è un OnePlus Quindi sarà sicuramente affidabile Per oggigiorno Non lo so se lo comprerei Vi dico la verità Il Poco M5S È quello smartphone Che ha caratteristiche tecniche Ti farà brividire Perché se sei un amante degli smartphone Non puoi guardare un telefono da 169 euro in offerta oggi Però per la grande massa È un signor telefono E qui secondo me c'è un telefono Che potrebbe essere il re del Black Friday Attenzione perché Oppo Find X5 Quindi non il 5 Pro Ma il 5 Cala a 549 euro Eh ragazzuoli Questo è un prezzone Attenzione perché Questo è veramente un prezzone Interessantissimo Com'è interessantissimo Anche l'Oppo Reno 8 A 499 Tra l'altro Se siete amanti dei pieghevoli C'è il Flip 4 A 899 E qui c'è un altro telefono Che a cartello non piace Ma che a noi è piaciuto Durante la riprova di Flavio L'abbiamo fatto insieme È un Google fonino Ed è il Pixel 6a Che scende in offerta Amazon A 349 euro Anche questo potrebbe essere Un signor Best Buy Per quanto riguarda Il Black Friday Ragazzi Che dire Queste sono le nostre scelte Ma in descrizione Trovate il canale Telegram Con tutte le offerte Che Veronica ha messo a disposizione A voi utenti La ragazza sta lavorando Non so neanche quante ore al giorno Per voi Quindi mi raccomando Entrate nel canale Comprate i nostri link Ci state aiutando Nel far questo Perché una piccola percentuale Arriverà nelle nostre taschine E per piccola Vi dico Veramente piccola Ahimè Però Amazon è così Insomma anche per dar merito A chi si sta facendo davvero Il culo Dalla mattina alla sera Per tutto il resto Vi aspetto nel box E nei commenti come sempre E anche per quest'oggi Da Guerz È tutto E ci vediamo prossimamente Per un nuovo video Ciao a tutti